Ciao a tutti! Nuovo video acquisti! Lo sapevate anche voi che prima o poi tornavano un video acquisti. Sono vestita da casa perché è mattina presto, almeno è ancora mattina presto, sto girando un sacco di video. Il mio cane piange, non si sa il perché, che è un piccolo puttone. Eccoci qua! Ciao a tutti! Ciao! Ciao a tutti! Questa è di Nino, non so se l'avete visto, nel tag amico Peloso l'avete visto. Lui è in ansia perché la mia mamma non torna. Velo? Si è in ansia perché la mamma non torna. Dove si è arrivata la mamma. Comunque, iniziamo con il video acquisti. Ecco, dai, su! Piccolo nanetto. Ah, ok. Facciamo vedere ai nostri amici. Dove abbiamo comprato. Allora, ho comprato dalla Lidl, della linea CN Tour, la Night Cream al minograno. Spero, spero, proprio, una crema viso-notte per penne mature, contiene obiettuali senza lina grana, da cottura biologica. Rassiota la pelle, aiuta perciò sull'immigrazione cutanea. Io l'ho presa come crema-notte. L'ha consigliata anche qui su YouTube, Marzia Mancini, che saluta e manda un grande bacio. Lei è una delle poche di cui mi fido come YouTuber, come recensione onesta, è una delle poche, pochissime. Mi piace molto il suo canale, la saluto, un grosso bacio. Ho preso questa qui, la linea CN Tour, poi la linea CN Tour costa veramente poco. I prodotti CN sono riperibili alla Lidl. Sempre alla Lidl, ho ripreso per la terza volta, sempre CN Tour, l'anticellulite Oil Birch, di cui ne ha parlato sempre anche Marzia Mancini, e anche Ambra, qui su YouTube, Comerci e Vaticcia Scaltra. Mando un grosso bacio, un abbraccione a Ambra. Voi, sempre alla Lidl. Grazie molto. Questo smaltino color Malva, Voi lo vedete grigio, ma è un violetto scuro, molto bello, sempre alla Lidl. Si è pagato pochissimo. Poi, ho preso da Ipershop, equilibrio al gruppo B, l'integrazione alimentare di vitamina del gruppo B, energia per il corpo e per la mente, adesso che finirò la finirò di prendere i farmaci, potrò prendere questo, per stimolare il sistema immunitario, che io, se sapete, ho il sistema immunitario un po' calante. Questo l'ho pagato sui 6 euro, mi sembra. La luce va e viene, perché io ho la luce in quale. La luce è per voi. Poi, c'è il cinese, come diceva Mia, c'è il cinese. Ho preso un giochino e i bastioncini per il mio cane, perché ha fatto il compleanno. Ad agosto, poi io lo ho presi adesso, sono una cattiva madre. Poi io faccio sempre regali al mio cane, però non ve lo posso far vedere, perché se li ha tutti presi. Questo l'ho preso da T.O.T.A. Cartacalla Soft & Box, questi colori molto carini. Cartacalla. A 99 centesimi tutte queste veline, che io sono una consumatrice spassionata di veline. E, sempre da T.O.T.A., ho preso la Exelence Creme L'Oreal Paris crema colorante tripotatamente avanzato. Questa, la L'Oreal Exelence Creme consigliata da Deborah Fully qui su YouTube. Mando un saluto anche a lei, un enorme un bacione anche a lei. L'aveva consigliata in un video e l'ho provata, me ne sono innamorata e l'ho ricomprata per la tinta inizio. Ciao telefono! Scontrini ok finiamo con il cinese il cinese mia mamma mi ha regalato un paio di pantaloni che devo cambiare perché non mi stanno non mi piacciono addosso poi mi ha regalato questa blusa questa maglia ha il collo ha il collo così le maniche a tre quarti e è abbastanza lunga è una blusa semplice niente di impegnativo perché non mi mette più a fuoco ok mi piacciono molto poi sono quei tessuti leggeri non so quanto è la patata poi io dal cinese ho preso un paio di pantaloni che devo cambiare ecco però altri di queste qui che faccio vedere adesso e l'angolo di set 5 i i allora questa guanna qui che è bellissima a tre quarti ciao cane a tre quarti è morbidissima è fantastica difatti ne comprerò altre le ho pesa così grigia e blu finalmente le posso mettere da lavare e metterle finalmente blu sono bellissime sono fantastiche morbide quanto le ho pagate secondo voi? indovinate qui mettete sotto nei commenti quanto le ho pagate 3 euro l'una ma scherziamo ma dove le trovate a 3 euro così? cioè io adesso che devo cambiare i pantoi da 11,90 comprerò tutti i colori di queste sono fantastiche guardate sono bellissime sono morbidissime sono fantastiche ok poi a 1,50 euro le pile io sono consumatrice di pile 1,50 euro poi però mi presento queste le altre odorate nere no arancioni e argentate sì poi ho preso a 2,39 euro sapone lavanda con estate a t biologico certificato bio ecco cosmesi il polo del genco dettimento di destato sapone lavanda officina del mugello mi sembra non so se è uguale a quello sapone vegetale però la confezione è molto simile il prezzo è quasi uguale voglio provare questo alla lavanda quella l'altro c'era sapone vegetale è solo la massiglia voglio provare questo alla lavanda per le mani o per i pennelli non lo so perché ho preso anche delle saponette non so se usare saponette per i pennelli questo per le mani o viceversa non so però è un bel boccione ho pagato 2 euro e qualcosa da 500 ml alla lavanda poi chiado la lavanda ultimo ultimo oggettino è questo specchietto voi siete qui lo specchio è molto molto sporco a 1 euro e 50 1 euro qualcosa del genere ciao a tutti ho cambiato le cosine cioè ho cambiato il pantalone preso dai cinesi il negozio si chiama mondo risparmio però non so se potete provarlo nelle vostre città comunque i pantaloni costavano 11,90 io sono rientrata nel budget ho solo aggiunto 1,80 euro ho preso questa jumbo lipstick matitone labbra ho cercato 2 euro c'è 2,90 va bene va bene uguale jumbo lipstick matitone labbra perché io ho la colorazione con la rosa e dura un sacco pur essendo un matitone però dura molto è riuscita a mantenersi anche dopo il sushi quindi fate voi io ho preso la colorazione c'è scritto non si legge comunque è quella marroncina si jumbo lipstick matitone labbra full color dell'astra del nuovo packaging poi ho preso a 2,90 euro sempre come il matitone questo smalto gel a teffect io su ho quello che avevo preso l'altra volta mi sono tratta benissimo ne ho preso un altro però questo qua è colore amarena non so se rende in videocamera perché ho la luce naturale però io ve li straconsiglio con 2,90 euro questo con il top coat dura un sacco poi a 4,90 euro ho preso questi orecchini senza nickel cabbie in più o uno della Missy con la Y finale mi sono trovata bene con altri due paghi che ho preso e ho preso questi infatti mezzo cerchietto sono molto carini poi sono più per il semplice se vedete i miei video adesso vado più del semplice ultimo come la gonna di prima 3 euro ho preso la gonna quella a 3 quarti non so se la vedrete mai e niente questo era per ora gli acquisti spero vi siano piaciuti la luce va e viene non la sopporto più fatemi sapere cosa avete pensato voi nell'ultimo periodo lasciate un like un commento iscrivetevi al canale supportate questo canale e niente mando un grosso bacio un salutone enorme ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao